Siamo a Mazzara del Vallo, nella grande rotonda che porta al ponte sul fiume Arena, incontrata a Bocca Arena. E qui, in questo luogo, abbiamo scoperto questa pietra, questo monumento, dedicato a Omar Mukhtar, eroe dell'indipendenza della Libia, a nome dell'amicizia con il popolo libico, pietra posata dalla città di Mazzara del Vallo nei primi anni del 2000. La pietra è rivolta verso la Libia, in segno proprio di amicizia e di vicinanza con il popolo libico, indipendenza della Libia che, ricordiamo, fu ottenuta proprio a scapito dell'Italia. Oggi con noi abbiamo qui Francesco Calia, che è un mazzarese, che vive nelle Marche da decenni, ma che in passato è stato anche protagonista della politica locale, perché no? E allora è stato proprio Francesco Calia a farci notare la presenza a Mazzara di questo monumento in un periodo storico abbastanza particolare, per via del sequestro dei due pescarecci mazzaresi, Medinea e Antartide, da parte di una parte dell'autorità libica, quella che fa capo al generale Haftar, con 18 pescatori tra italiani, tunisini e stranieri, che in questo momento sono di fatto prigionieri in Libia. Allora, Francesco, come ti è venuta in mente l'idea, perché noi ce ne eravamo assolutamente dimenticati della presenza di questo monumento? Sì, intanto buongiorno a tutti e ringrazio questa emittente per l'informazione che state fornendo alla cittadinanza e all'Italia intera. Io vivo da tanti anni fuori Mazzara, tuttavia ho sempre seguito, come dicevi a distanza, le vicende della politica italiana e mi sono ricordato tanti anni fa che era stata posata proprio questa pietra in onore di Umar El Mukhtar, qui manca una L. un grande condottiero delle truppe cirenaiche, proprio i luoghi dove si trovano adesso i nostri pescatori e seguendo in televisione il dolore di queste famiglie tenendomi in contatto telefonico mi sono chiesto ma perché a Mazzara del Vallo non mettono in evidenza il profondo legame che esiste tra il popolo libico e il popolo di Mazzara del Vallo, che non è un fatto opportunistico, questo monumento a Umar El Mukhtar risale a qualche decina e forse di più anni fa. Tra l'altro credo sia un episodio, non credo che in altre parti d'Europa, d'Italia, d'Europa esista un monumento per l'indipendenza della Libia. Esattamente, ed è proprio questo che io come cittadino di Mazzara, ma soprattutto come figlio di un motorista che ahimè ci ha lasciato nel gennaio di quest'anno, perché mio padre Enzo Calia è stato motorista nei pescherecci di Mazzara del Vallo, sui pescherecci di Mazzara per 42 anni, io stesso accompagnavo mio papà nelle battute di pesca, quindi io so cosa vuol dire il dolore di una famiglia, io so cosa vuol dire avere un padre prigioniero o in Tunisia o in Libia. Capisco anche le difficoltà del momento, ma credo che questo grido di dolore debba giungere al cuore del generale Aftar. Vede generale, noi siamo amici del popolo libico, le persone che sono prigioniere in questo momento non sono nemici del popolo libico, sono solo lavoratori. Sono persone che stanno in mezzo al mare per guadagnare un pezzo di pane, quindi chiediamo misericordia in nome del fatto che sono pescatori che stanno nella stessa terra in cui c'è un monumento dedicato all'eroe della Cirenaica. Quindi io faccio appello tramite questa emittente affinché il generale Aftar abbia, lo ripeto, misericordia possa in un certo senso aiutare quantomeno a far avere contatti alle famiglie dei pescatori prigionieri in questo momento. E poi soprattutto nel rispetto delle leggi del governo della Cirenaica il processo, se si deve fare un processo, che ci siano degli osservatori o di Mazzara o italiani per seguire questi nostri fratelli pescatori che ricordo non sono solo italiani, ma quando si sta a poppa di un peschereccio siamo tutti uguali, non ci sono distinzioni ovviamente, come non ce ne debbono essere ovviamente al di fuori della poppa di un peschereccio. E quindi con questa pietra che io tocco in nome dell'amicizia del popolo mazzarese, unico caso in tutta Europa, come ben diceva Enzo, credo che si possa lanciare un grido di aiuto nei confronti del generale Aftar affinché veramente aiuti queste famiglie di Mazzara a riabbracciare i propri cari. Grazie. Grazie. Cosa stiglierà, con il genere, a preso di Mazzara, con un'altra la cittù che si concentriano con un'altra città amica, che è facebook al restitore di Libia il descriptivo dell'altro. Cattiamo una città amica, abbiamo preparato un'altra città di Libia, qui è per aiutare le nostre abitazioni di farbacare che sono stati presentati in Tarabolus o in Benzart o in Benghazi e speriamo che ci siano persone che lavorano per la sua famiglia e speriamo di farbacare le nostre abitazioni e adesso vi ricordate questo miglioro, è il miglioro momento che gli mandati a viaggiare al 강hese di ambiente in Europa, che ci ricordano di unghesevo, deve una scolarità direttiva dall'Italia e Libia. Io ti auguro, mio ang 게istro, che possono riusciare a la faccia di ottenere la loroには.